Il campo delle due squadre, Atletic-Lanciano-Virtus-Castelfrentano per la prima di campionato categoria Juniores. La Virtus-Castelfrentano è con la classica maglia giallorossa, mentre l'Atletic-Lanciano è con la maglia nera con risvolti rossi. Il direttore di gara è il signor Lapietra della sessione Aglia di Lanciano. Adesso c'è la scelta del campo, della metà campo. Ecco, si salutano le rispettive squadre. Il direttore di gara va a controllare la rete là in ponto. Le panchine, qua la panchina dell'Atletic-Lanciano, qua la panchina della Virtus-Castelfrentano. In panchina c'è anche Iarlori, il nostro mister Iarlori, il mister Gabriele Di Felice, il nostro coordinatore tecnico, e il mister della Juniores. Signore e signori, alla prossima ripresa e foto. Signore e signore, signore e signore, signore e signore.